buongiorno benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 giugno ciao francesca ciao giovanni vi saluto a tutti quanti voi che vi siete collegati appena ora con la nostra rassegna stampa la zuppa di porro sto studiando come aumentare il numero di volte in cui fare questa zuppa di forro anche voi dovete studiare il modo in cui diffonderla sempre di più e cosa è successo sui giornali oggi presto diritto tutti quanti i giornali titolano sui bulgari di mondragone che sembrerebbe una di quelle cose di aldo giovanni e giacomo se non fosse una cosa più seria che cosa è successo ci sono cinque palazzoni di undici piani a mondragone dove c'era uno straordinario convento ritiro dei gesuiti io lo conosco bene mondragone oltre che per la mozzarella per questo straordinario diciamo ritiro dei giovani studenti dei gesuiti evidentemente sono andato anche quello carte 48 però ci sono anche questi cinque palazzoni di undici piani che sono occupati da 700 persone bulgari stranieri alcuni italiani sostengono e tra di loro ci sarebbero una cinquantina con il virus apro parentesi chiudo parentesi perché la gente poi dice oddio c'è l'ebola mondragone a caserta sono tutti disperati abbiamo cercato abbiamo creato complice de luca una tale paura che se tu c'è un focolaio nella tua regione tutti a strapparsi oddio sta arrivando l'ebola moriremo tutti quanti in sostanza sono tutti asintomatici tranne uno va bene quindi sono risultati positivi ma sono asintomatici poi li abbiamo dato tutti come braccianti che non sono in regola probabilmente molti di loro non sono in degola quindi c'è tutto c'è tutto quello che piace a saviano che scrive infatti su repubblica il bracciante le mafie il sud il tutto il disastro di questo disastro in questo disastro e che cosa è successo che ovviamente essendoci un focolaio un po come quello della bartolini però se sono sudamericani come spesso invece ne avviene nella bartolini c'è negli distributori di pacchi la cosa è attendibile ma se avviene a caserta e ci sono i bulgari beh insomma allora c'è il cordone sanitario e la zona rossa e gli screening di massa tutto giusto sia chiaro non c'è nessun intento sarcastico in quello che dico ma dico tutto giusto si fa la zona rossa intorno a bondragone e i residenti sono arrabbiati perché dicono ragazzi questi qua non stanno a casa come siamo stati noi a casa forse perché dipendenti pubblici forse perché rispettosi forse perché ci facevano le multe ma gli italiani nel lockdown sono stati a casa i bulgari a casa non ci stanno un po come vi ricordate gli americani del wisconsin che hanno preso i fucile hanno detto alla governatrice noi col cavolo che facciamo il il lockdown perché vogliamo lavorare i bulgari se non lavorano mangiano e quindi loro hanno deciso di uscire alcuni di loro avrebbero sarebbe uscito uno per la verità secondo le cronache e apriti cielo e ovviamente questa è la storia questa è la cronaca disagio sud dipendenti in nero probabilmente di alcune aziende agricole 11 palazzi come se non ci fossero e qual è il diciamo il set delle reazioni intanto de luca il governatore quello del lancia fiamme i lombardi se vengono da me con lancia fiamme che cosa ha fatto zero si è cagato sotto non si è neanche presentato lì c'è l'esercito che si prega de luca quello che parla bene all'ira tv quello che non accetta confronti con nessuno sta lì dai bulgari no il lancia fiamme dove l'ha rimesso nel cassetto ha rimesso il lancia fiamme nel cassetto perché vale solo per i lombardi che arrivano in in campagna mentre c'era in campagna i bulgari in 11 palazzi in 5 palazzi di 11 piani che sono sempre stati qua sotto il nasino di de luca lo sceriffo però ovviamente non se n'è accorto se salvini si permette di alzare il dito di te scusate ma che cosa sta avvenendo in questo posto ha soffiato sul fuoco dice indignato il foglio sempre più vitelliano come quel cretino di vitello quello che neanche si accorce che il suo direttore viene nella nostra trasmissione e quindi pontifica con raimo ecco questo è il concetto i raimo i vitello pensano che salvini abbia soffiato sul fuoco doveva stare zitto muto dove dire va bene tutto quanto va bene che luca non ci abbia il lancia fiamme va bene che ci siano 5 palazzi 11 piani non controllati va bene che ci siano là casi di covid che se ci sono in lombardia succede alla fine del mondo se arrivano là e sono i bulgari non si deve dire nulla deve stare zitto questa è l'unica cosa che deve fare salvini stare zitto perché qua ci sono i bulgari qua è il sud qua è zona di de luca qua il covid non fa male come lombardia deve stare zitto a gallera che gli danno il correda sera gli danno uno spazio di una letterina di un colonnino in corriere della sera in cronaca milanese perché si permette di dire guarda che la sanità privata e la sanità pubblica hanno collaborato in lombardia e funzionano perfettamente e si prendono pure i campani e i lombardi bene quello a finire come denunciato come se fosse il peggior criminale mentre lì va tutto quanto bene perché si tratta di de luca e si tratta del savianismo perfetto e poi ovviamente se sulla ong che si chiama mobi zazza stupendo il nome devo dire e obiettivamente ci sono 28 positivi su 250 gitti e muti perché il problema è la lombardia perché in realtà se vengono le ong si arrivano dei bulgari eccetera se qualcuno inizia a parlare tutti zitti e muti vabbè fantastico e poi il giornale del governo il fatto girone di ritorno fantastico girone di ritorno io che sono uno di quelli che sdrammatizza ovviamente la malattia come tutti quanti medici oggi mi sembrano più accorti ma quale girone di ritorno e poi ci sono asintomatici le cariche virali sono più basse gli ospedali sono meno ingolfati ma perché dobbiamo mettere questa paura ancora la gente per morire di fame beh certo il fatto si è preso 2,5 milioni di prestiti grazie al decreto di lancio grazie al covid nonostante abbia perso un milione e mezzo l'anno scorso non quest'anno di quattrini oggi si è fatto fare un bel finanziamento di 2 milioni e mezzo quindi insomma loro hanno ancora da respirare da pagare le tipografie ma le persone normali 2 milioni e mezzo non l'hanno presi come il fatto e quindi se noi continuiamo a mettere paura a differenza del fatto non vendiamo copia in più va bene nel frattempo il foglio giustamente nota e in questo caso sono d'accordo con capone che rega è quella che tranquillizzava se mette come capo economico e bagnai perché vedete bagnai sarà intelligente sarà bravo un po arrogante no arrogante non mi sembra insomma un po aggressivo questo sì ma tutti noi siamo aggressivi quindi figuratevi un po' se questo io lo considero un difetto però il fatto che nomini ad esempio bagnai e non siri vuol dire che quella lot quella roba lì è no l'avete capito che lega è questo insomma lo capisce anche un bambino che quella lega con bagnai è una lega no euro quella con siri è una lega flat tax che sono due anime un po' diverse quella liberista e quella diciamo anti europeista che non necessariamente coincidono anche se il liberista non è un grande amante dell'europa fantastica e il super bonus del sole perché questo super bonus del 110 per cento scommetto e ci metto la mano sul fuoco ve lo dico dal primo giorno servirà poco a nulla doveva essere il rilancio dell'edilizia stanno mettendo tanti pali e tanti paletti che servirà a nulla dicono che però nella conversione del decreto in legge già qua capite voi la follia che c'è una legge la dobbiamo convertire non sappiamo ancora come viene convertita si faranno le riduzioni dei massimali cioè vi aiutavano non so per 60 mila probabilmente scenderanno e però cosa buona dovrebbero entrare anche le seconde case che per motivo ideologico di quei cazzoni dei grillini le seconde case non erano entrate nelle ristrutturazioni edilizie perché venivano considerate case dei ricchi questo è il concetto bene e l'altra cosa di notizia di giornata che indigna tutti e i vitalizi salta il taglio dovete sapere che il senato decide da sé cioè si fa legge da sé una vecchia norma diciamo normale nelle decolazioni liberali che i parlamenti si autogovernano se non ci sarebbe qualcuno che potrebbe minare la volontà popolare tant'è che l'altro giorno lo scritto sul giornale lo trovate sul sito si sono autogovernati tanto che non hanno fatto entrare un parlamentare che avrebbe avuto i voti più più di cubed uno del movimento 5 stelle che invece è rimasto nonostante abbia preso meno voti nel suo collegio elettorale quando sono stati ricalcolate le schede perché il parlamento è sovrano e sovranamente ha deciso che non si devono tagliare i vitalizi ai suoi parlamentari passati sappiate che il parlamento spende 500 600 milioni ogni anno il taglio dei vitalizi vale 20 milioni ma c'è un problema questo taglio dei vitalizi e cioè che riguarda i vitalizi del passato perché dal 2012 in poi i vitalizi sono stati tagliati per tutti quindi è una norma retroattiva e il senato ha detto che questa norma retroattiva non la può fare ognuno di voi su queste materie giudichi come gli pare quello che è sicuro è che i senatori hanno scritto sull'onda dell'anticasta per la quale a settembre voteremo contro tutti quanti il numero dei parlamentari avremo meno parlamentari e saremo contenti meno parlamentari meno spese tutte cazzate perché oggi l'unica cosa che dovremmo avere è un parlamento funzionante non un parlamento diminuito ma un parlamento funzionante rispetto a questo governo di incapaci invece noi continuiamo a rendere sempre la pariglia al parlamento di incapaci e ci preoccupiamo non dello stipendio di casadino non dello stipendio dei pomigliano boys che hanno messo di maio ovunque non di arcuri non di tridico non di tutte le nomine governative come mimmo parisi non ci chiamiamo di questi cazzoni ma ci chiamiamo dei parlamentari che stanno zitti e muti poi dopo io i vitalizi li hanno esagerati li hanno resi ridicoli quello che volete voi però oggi bene ritorna il giornale della casta indignato perché hanno tolto il voto ai parlamentari i due leghisti hanno votato contro questa riduzione nel frattempo che noi siamo qui che discutiamo sul voto dei parlamentari una cosa fondamentale è quella della scuola va bene la scuola con le nuove linee guida su come tornare a settembre io trovo fantastico io partirei non dall'intervista dell'azzolina alla stampa che dico non sono solo il movimento 5 stelle con me è ottenuto un miliardo per la scuola non questo non voglio farvi sentire l'azzolina ma voglio farvi sentire l'agenzia stefani cioè l'agenzia di regime marco travaglio perché è incredibile travaglio qualche demente voleva aprire la scuola a maggio toc toc qualche demente voleva aprire la scuola a maggio l'hanno aperta in tutta europa nonostante lui dica che non è vero perché in francia l'hanno aperta in gran brett in tutta europa hanno aperto le scuole noi siamo l'unica istruzione che ha chiuso per prima e non aperto alla fine dell'anno e quello ci dice che qualche demente voleva aprire scuole io sono uno di quei dementi io sono uno di quei dementi che voleva aprire le scuole perché le persone non si rendono conto che fra poppi e gnoccherano le disuguaglianze sociali ma secondo voi chi ci rimette di più dalle scuole chiuse i figli dei borghesi che possono in qualche maniera istruirsi o i figli di coloro che non hanno una lira che non possono istruirsi ci perdono di più dalle scuole chiuse quelli che vivono nei palazzi cirio di mondragone o quelli che sono fortunati come me secondo quei cazzoni alla travaglio che gli concludiamo tutte le scuole perché devono dare a giorgione alla sua azzolina e poi fantastica l'agenzia stefani dice la maturità tutto procede più che decentemente toc toc la maturità tutto procede più che decentemente ma veramente travaglio smesso di vivere in un mondo normale devo dire che poi leggo l'intervista bianchi la voglio far vedere perché me la sono me la sono appuntata qua bianchi dovete sapere bianchi è il professor patrizio bianchi è un consulente dell'azzolina lei è capo della task force nominata dal ministro lucia azzolina per fare proposte per la riapertura delle scuole si ritrova nelle linee guida che tutti contestano cioè il capo della task force dell'azzolina viene chiesto dal corriere della sera se si ritrova nelle linee guida e sapete che dice il testo era sbagliato più che le mascherine in classe serve chiarezza bianchi io prossimo ministro a disposizione è stupendo è stupendo cioè l'azzolina prende il consulente l'amico del bologna di bonaccini che dice che l'azzolina sta a fare tutte le cagate ma è lui consulente dell'azzolina e il giornalista gli chiede vuol fare il ministro al posto dell'azzolina sono a disposizione io vi voglio avvertire sono a disposizione lo dico sempre per fare il ministro degli esteri chiunque voglia nominarmi ministro degli esteri anche barabba io ci vado sono disponibile sono disponibile me ne vado con il mio mia vespetta me ne vado lì alla farnesina come quando ci andavo con martino mi mettete là la farnesina al posto là di di maio io sono disponibile qua lo dico e qua lo nego lascio tutto tutti i miei impegni forse solo la zuppa mi tengo per il resto finalmente lasciamo tutto vittorio feltri si dimette da giornalista è la notizione a scoop che c'ha oggi sallusti perché pare che si sia dimesso vittorio feltri dall'ordine giornalista perché si è rotto le scatole del soviet dell'ordine giornalisti ha fatto benissimo dice sallusti perché non ce la si fa più autostrade bloccate è l'altro tema del giornale vi consiglio di leggerlo ci sono 300 cantieri sull'autostrade tutti pagano la lite dice toti stiamo pagando la lite tra governo e le concessionarie perché è evidente che se il governo toglie le concessioni poi le concessioni riducono i loro investimenti sostiene toti in una delle regioni dove mi trovo io in questo momento in cui c'è veramente più casino incredibile sull'autostrade palamara e altri nove magistrati secondo il messaggero sarebbero oggi sotto inchiesta da parte della procura generale della cassazione che chiederà sanzioni disciplinari al csm con un piccolo dettaglio le sanzioni disciplinari nei confronti di questi dieci magistrati le farà il csm e chi ha nominato tutti i capetti del csm proprio palamara con i suoi amichetti quindi palamara i suoi amichetti cioè l'uomo nero viene giudicato da coloro che sono stati beneficiati dall'uomo nero ultima grandiosa straordinaria polemica quella della signora murgia non spero si possa dire signora murgia non si affetta non ci sia il sessismo perché quando si parla di michela murgia bisogna stare attenti a come ci si comporta e dice ieri è stata una giornata mi sembra epifanica valeria breghieri poi sul giornale dice l'unica cosa che fa bene la murgia è scrivere per il resto insomma non ci azzecca molto non so se si possa dire quindi giornala epifanica perché sono successe tre cose incredibili lo psichiatra morelli ha detto che per le bambine è normale giocare con le bambole che per le donne quando si esce da casa è bello essere ed è normale che attraggano gli uomini che si sentano desiderate come che dice è una donna a cui non gli mettono si dispiace se una donna non viene guardata giusto sbagliato che si è quello che dice morelli è un rapper ieri ha anche detto che un altro rapper che tutto vestito confetto rosa confetto l'ha preso in giro e dice o ieri è stata una giornata epifanica perché il rapper morelli e poi sgarbi che insulta le donne in parlamento vogliono dettare le norme di comportamento questi tre animali animali lo dico io non l'ha detto lei io dico semplicemente non si può rubricare la cosa invece come dice giustamente cruciani oggi parlati di sessismo maschilismo che altro dice misoginia tutte ste robe qua non si può semplicemente dire che uno non vuole vestirsi di rosa ed è libero di poterlo dire non si può dire che uno psichiatra ha un punto di vista non si può dire che sgarbi è sgarbi e può essere molto maleducato e basta no ma perché sempre maschilismo sessismo misoginia perché quelle fanno male oggi perché se tu dici quello è un cafone non serve a nulla se quello gli dici un misogino sei finito quindi oggi bisogna ridurre tutto quello tutto alla copertura delle statue sessiste volgari e schiaviste del passato è un modo fantastico per chiudere la bocca a chi non la pensa come la signora murgia questa è la realtà vera dei fatti direi che per oggi è tutto vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it e con la zuppa di domani e con forse una zuppa serale ciao